Benvenuti su Plenottis, io sono Rob e questo è l'undicesimo episodio per la run critica di Alan Wake Remastered. Abbiamo lasciato il nostro Alan finalmente alla fattoria degli Anderson in quel loro posto che chiamano Valhalla e insieme a Barry hanno bevuto il whisky fatto con l'acqua non filtrata del lago che abbiamo scoperto avere un potere, avere il potere di rendere vero tutto ciò che viene creato dal punto di vista artistico e il bere questo whisky gli ha fatto tornare alla mente ciò che è successo in quella settimana in cui non c'è stato, in quella settimana di vuoto che lui aveva e di fatto scopriamo che è stato nel cottage sotto la supervisione della strega di Baba Yaga, di Barbara Jäger ma solo dal punto di vista dell'involucro, sotto la firma della presenza oscura che l'ha costretto a scrivere del suo ritorno ma Alan a un certo punto ha capito che lo stava sfruttando e che doveva scrivere per liberarsi e ha inserito Thomas Zane come presenza di pura luce che lo venisse a liberare ed è quello che effettivamente è avvenuto. Come dicevo anche nella puntata precedente evidentemente tutto quello che stiamo vedendo adesso è frutto e figlio della scrittura delle pagine che lo stesso Alan ha scritto all'interno del cottage quando ancora era sotto l'influsso della strega e che quindi sono vincolate a questa dinamica di lotta e di battaglia fra la strega che cerca di far scrivere il proprio ritorno ma ovviamente tutto deve essere vincolato a una buona scrittura quindi non può semplicemente Alan non può scrivere la presenza oscura vinse punto, deve scrivere una storia dell'orrore con tutti gli stilemi e le questioni del caso per fare in modo che lei torni. Dall'altra parte c'è la lotta di Alan che quindi contemporaneamente scrive in modo da potersi liberare tutto quello che noi stiamo vivendo è di fatto una lotta di scrittura dal punto di vista proprio delle capacità di scrittura e della forza produttrice della scrittura fra una presenza oscura che vuole il suo ritorno e Alan che vuole liberarsi. E adesso andiamo avanti con il capitolo, con l'episodio 5 del gioco. Episodio 5, il clicker. Il clicker che abbiamo scoperto essere l'oggetto che la madre gli aveva dato a Alan da piccolo. Qua dico soltanto una chicchetta che però chi ha giocato Control probabilmente nemmeno conosce ma di fatto all'interno della stanza del custode di Hati, del janitor, è presente un quadro che raffigura una cittadina. Quella cittadina è Watery ed è la cittadina dall'altra parte del fiume che attraversa Bright Falls e che è la cittadina tra virgolette rivale di Bright Falls, per dire, quindi. Che adesso il nostro Pat ha citato come appunto rivalità storica che c'è fra le due cittadine tanto per dire una chicchetta che molti magari non conoscono. Che cosa verrà a prenderla? Anzi, chi verrà a prenderla? Soprattutto cosa verrà preso? Tutti i pagi di mani sono fatti, l'agente del FBI l'ha preso. Penso che la mia lingua si è fissuta in me la mia cuota. Oh, aspettiamo, siamo in giro ora? Ma abbiamo letto anche qualcosa dalla prigione in realtà. No, questo non è bene. Questo è proprio la conclusione. No, Barry, anche meno, dai, per favore. Oh, no, non ho mai beccato ancora. Ho bisogno di parlare con Weaver. È la persona in la città, la Lady of the Light. Che, la Lady of the Light? Cosa che ti dice, Al, ma siamo in giro qui. Non sono bene. Non ho avuto un'intervista a fare prima, Sharon. E mi racconta, è stato un'interessante. La Lady of the Light. Noi, ho avuto ora, Raymond Chandler. È tutto qui. Tutti le evidenze, anche la conspirazione per la città a un agente federale. Non c'è una forma di andare fuori da qui. Tu senti me in there? Brett Easton Ellis? Ah? Agente Nightingale, voglio parlare con il suo superiore. Ma tutti vogliamo cose, Sheriff. Voglio... Guarda, non è possibile ora. Agente Nightingale, voglio insistere. Ma avevo detto che c'aveva un alito questa prema di alcol. Wow! Get... Get back in the cell, Stephen King. E questo è un pezzo meraviglioso. Nightingale che si accorge che va tutto esattamente come nella pagina che ha letto. È bellissimo. We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Come abbiamo visto all'inizio, mentre... Mentre... We're sitting Dutch with the lights out. Mentre... I can get the emergency power on. Mentre... Lo sceriffo, Sarah Breaker, si rende conto che effettivamente qualcosa c'è. Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it. But it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. E questo è un bellissimo esempio di loop narrativo spiegato. Cioè, come funziona il loop narrativo. Cioè, è la pagina stessa a provocare il fatto che Nightingale prenda la fiaschetta e legga le pagine che però sono state scritte per essere lette e poi portate a fare a Nightingale quello che effettivamente fa. Ed è tutto circolare. Questo è un loop narrativo scritto in una pagina. Nightingale sentì la situazione fuori dalla sua controlla. But the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire. Resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before. Read it in the page. He was transfixed by the deja vu and the horror that he was a character in a story someone had written. Then the monstrous presence burst in behind him and dragged him into the night. Ci possiamo chiedere se i deja vu non siano la manifestazione reale di una storia che ci riguarda, che abbiamo già letto, chissà. Una sorta di reminiscenza platonica frutto di una metempsicosi, cioè di una reincarnazione dell'anima nei cicli successivi. Chissà, ovviamente sto scherzando nel senso che non è nemmeno così. Però è molto fascinosa anche come situazione. Mi sembra molto giusto inserirla come elemento di fascino all'interno del racconto senza per questo snaturarlo o dover pensare che ci sia qualcosa di assurdo. È assurdo, già per sé, perché ovviamente non è reale. Però è tutto molto ben scritto all'interno. Beh, armiamoci. Sceriffo. Ci sono le sue cose. La torcia piccola. C'avevo la torcia grande quando mai l'ho trovato. Non scherziamo. Dov'è la mia torcia grande? Cynthia, lei vive nell'ultima decommissione power plant. Posso ritrovare lì molto rapido nel rischio. Altra cosa interessante che mi aveva in mente in questo momento è quello che riguarda la ritualità di certi luoghi. Sia Alan Wake, sia Nightingale sono degli estranei rispetto a Brightfalls. Ma Brightfalls ha tutta una sua ritualità, tutta una sua presenza già di personaggi, di personalità che dicono e fanno delle cose. Ed è particolare vedere come, se Alan dice a Sarah Breaker che vive lì da tempo, le dice guarda che devo trovare la luce e Cinzia Weaver, non è assurdo. Cinzia Weaver sono anni che vive dicendogli di cambiare le lampadine a tutta la stazione, che è fissata col fatto di rimanere nelle luci. Cioè questa ritualità, questa conoscenza, questa realtà della cittadina che quelli che vengono da fuori non possono capire. Ed è anche questo il motivo per cui lo sceriffo Breaker si fida di Alan Wake più di Nightingale. Perché Alan Wake parla la lingua che lei conosce, una lingua fatta appunto di queste personalità che all'interno del luogo dicono e vivono queste cose. Hanno già vissuto l'esistenza di Thomas Zane, il ricordo di Thomas Zane. Quindi non è assurdo quello che Alan dice. Più assurdo Nightingale che arriva e vuole sparare. Ed è questo anche molto bello che dà l'elemento culturale, folcloristico alla città. Voglio che resta qui. Cosa? No! Ci siamo andati a prendere il nostro canale, ma ho amici che bisogna essere informati di questo, e non posso essere in due paesi all'interno. Voglio il vostro aiuto. Beh, ok. Qui c'è una lista di persone con numeri telefono. Voglio che si chiede a loro e le dire che hai un messaggio da me. Night Springs, ok? Ci vedono cosa fare. Night Springs? Come la televisione? Ho, ho, è che il ragazzo di radio è sulla lista. Ma, chi è Frank Breaker? Si è legato a te? Come dicevo prima, l'ho introdotto apposta. Faccio un momento sabbaku con l'occhiolino, con... Lo sapevo, l'ho introdotto apposta per questo. Grazie Wheeler, ti dico una. Ok, vado, Wake. L'idea di una società segreta ovviamente è ripresa anche un po' da Twin Peaks. Però è interessante, c'è una... A parte il fatto che la parola da segreta sia Night Springs. Cos'è un tipo un protocollo Night Springs. Ok? So, I guess she... Yes, sir. Ok, I... È molto bello che sembra anche una parola d'attivazione. Evidentemente quando gli ha detto Night Springs, lui si è attivato e gli ha detto Ok, adesso fai questo, fai questo. E lui adesso inizia a rispondere alle domande di lui. Sentiamo cosa le dicono. Ok, grazie, sir. I'll tell you how you said that. That's really nice. But listen, I really need to make some more calls here. You got the message, right? Yeah, that's right. Ok, thanks, sir. Bye now. Tra l'altro Frank Breaker è un bel nome. Tra l'altro è bello che con Alan fisso qua davanti che può sentire il dialogo glielo dice. 2010, eh? Ok, bye. Ci abbiamo ancora a Far Cry 6 che nonostante alcune cose positive e giuste capita che passi lo stesso, due volte per lo stesso posto e ti rifà la stessa conversazione. Ok, possiamo andare. Vediamo un attimo il televisore, se fa qualcosa non fa niente. In realtà c'è un altro dialogo, vediamo se riesco a sentirlo. È bello. Cioè, ha calcolato dove sto e dove mi trovavo. Non è una cosa da poco. Altra cosa che mi piace è il fatto che si ritorna nei luoghi che si conoscono e si sa che la recensione... Eh, eh. La recensione è... È rotta. La presenza oscura inizia ad avere... presa sulla città. La recensione è ritorna. Ho sbagliatolato tantissimo Pensavo che potesse camminarci sopra Ma Effettivamente era un po' impossibile Però un momento No no ok Eh no però Eh beh è un po' piccolino Hey sheriff Your password Night Springs What's that all about? It's a stupid joke we have That Bright Falls is the original inspiration for the TV show This town can get weird in time Never this weird though si è che è fatto male tra l'altro ovviamente il volume della voce dello sceriffo cambia in base alla distanza che ha sempre una cosa che comunque uno ci deve far caso è vero che il gioco è lineare quindi non è che sia particolarmente complesso però comunque ci devi far caso ormai la presenza è oscura e ovunque ho preso tutto in pieno look out partito il carretto un po' Grazie a tutti. Pari che il termos, se no lo prendiamo, lo prendiamo il termos. Sì, devo andare, che poi vado a prendere la cassa qua, è inutile, perché vado a prendere la cassa, poi arrivano i nemici, spreco tutto quello in metà la cassa. Quindi va bene così. Già lui incorre, quindi... Sì. 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 La scurità intorno. Coprimi da quelli che si può togliere l'oscurità. Bene. Laggiù cosa c'è? Fatto fatto Adesso un po' una sequela dei combattimenti Vabbè questa è una grande fuga quindi Per forza di cose Sì va bene Altro termos Altro che è bengala Siamo pienissimi Ok, qualcuno ha messo con la fuga Ma dovresti essere capito a ridurre mentre ho trovato le chiave Io ho già stato elettriciato Oggi, come se chiede le chiave E tu fai per cambiare The darkness that wore Barbara Jagger's face was furious The story in the manuscript had been making it stronger all the time But now the light had set the writer free and heard it Weakened it It was only a matter of days before the dark presence would be strong again But meanwhile, it would be difficult to recapture the writer The message was from Barry He was getting worried at the station He wanted us to hurry No, preferisco questo fucile Che l'altro non mi dà sufficiente velocità di fuoco Torcia grande Ma non professionale Quindi è grande Me la fai prendere Il tenere premuto non può durare dieci anni però La chiave Perché c'ha le macchine E qui li vengo andando contro Barry, guarda! Barry, move! Barry! Barry! He made it inside, Weak. He's okay The storefront's blocked. Come on, Weak, let's go around. We can meet him in the back. La luce strana Non possiamo stabilire con certezza la nascita di Bright Falls come centro di scambi commerciali Sappiamo però che divenne una città e assunse il proprio nome quando nel 1878 la compagnia mineraria Bright Falls iniziò a operare nell'aria Fu allora che Hubert Biltmore, cacciatore di pellicce, e Amos Gunderson, pioniere di Tacoma, decisero di aprire un ufficio postale, un saloon e un hotel, tutti nello stesso edificio Fu grazie agli sforzi di questi due uomini che Bright Falls divenne la città fiorente che è oggi Quindi una città da comunque un lungo passato Lungo relativo perché comunque in America non è che le città abbiano questo grandissimo e lungo passato come magari in Italia Chiaramente però Chiaramente però E' lo sceriffo Poster del romanzo di Alan Libro del mese The Sudden Stop di Alan Wake Poi voglio dire il libro del mese ma se sono due anni che non scrive quindi vuol dire che il libro c'ha due anni Qua alcuni libri, cioè da parte ne hanno messi tantissimi quindi già non è facile che poi con la risoluzione più alta Mi sa che hanno dato titoli a tutti probabilmente si ripeteranno infatti il focus già lo vedo 5-6 volte però non è comunque facilissimo I libri su Alex Casey di Alan Wake maestro del poliziesco Alex Casey, What I Can't Forget, The Third Sender, The Things That I Want, The Fall Off Casey e The Sudden Stop Tutti disponibili a 20 dollari l'uno, 100 dollari per la collezione completa Il Signor Wake in città forse riuscirete a farvegli autografare Ah giustamente no, approfittano del Del fatto che è presente per fare Per fare gli sconti Cynthia Weaver worked hard Following her obsessive rituals Sometimes fighting them Always getting into them in the end She haunted the halls of Bright Falls Abandoned power plant She marked her caches with light sensitive paint That could only be seen by eyes that had been touched by darkness And saved by light like she'd been She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come The war between the forces of light and darkness Mi ricordo che di sopra si può andare ma non c'è niente Davvero qua si prende nulla Non so se adesso hanno messo qualche cosa Che ragionamento che ho sempre fatto è mi mandi su ma mettici qualcosa E invece non c'è niente Ecco Si sente respirare quindi Troviamo la cassa Oh la pistola lancia razzi Era proprio quello che è Pensavo un sacco di colpi la pistola lancia razzi Non so se vedete che c'è un problema nel posizionamento Lui trasla Cioè lui si ferma e trasla Rispetto all'asse dove sta Non è Evidentemente ci hanno avuto qualche difficoltà ad adattare i comandi Credo Te hanno avuto il fucile da caccia Mi prendo il fucile da caccia Se poi tanti colpi mi li date sempre solo di quello Torcia grande ma già ce l'ho Eh no i colpi li danno che il fucile da caccia Calendario parrocchiale autunnale Scuola domenicale Domenica Studio della Bibbia Lunedì Incontri del club dell'uncinetto di Bright Falls Mercoledì sera Notte delle candele della festa del cervo 14.09 Funzione mattutina della festa del cervo 15.09 Visita del coro presbiteriano di Watery Alle 28.09 Mercatino di beneficenza annuale Il 3 ottobre E diciamo che essendo autunnale Dovrebbe essere giusto così E non da invertire Certo Certo Per cui non fate quello che vi viene detto Questi tutti i lavoratori della festa evidentemente no Che hanno allestito la festa Adesso arrivano e dicono Allora vado a lavorare il fisico Due bills in the morning Una pagina D'altronde è tutto scritto Sì ho schivato Mi sono mosso Mi hanno incastrato qui Posso uscire? Bene Allora vado a lavorare il fisico C'è un altro C'è un altro E' incastrato? Bene Voglio altri colpi da qualche altra parte Va bene Andiamo andiamo Mi piace anche la musica Nei momenti distesi Ovviamente una pagina sul leggio Tra l'altro è interessante Come di fatto tutto ciò che è verosimile che accada Anche ciò che non è scritto esplicitamente nel racconto Ma che è comunque possibile che accada Per verosimiglianza Può succedere Quindi se la presenza Se io dico che la presenza oscura si rafforza E dico che Arriva nella città Io posso poi Cioè la presenza può Funzionare in un certo modo E quindi magari Prendersi anche gli altri Però qui se non cambiamo le lampadine Però signori Poi mi fate arrabbiare E ci sia Weaver Gentile ma Eh? Eh certo Anche posso stare dieci anni qua A fare Con la torcia All'illuminarvi Vi sparo direttamente Via Ci ho pensato Barry Le lampadine A cosa vanno poi Se le lampadine Che da è una zoologica Che da è una zoologica Vampires Il helicoptero è proprio All'illuminarvi E all'illuminarvi E all'illuminarvi Come on Tanto per citare Tanto per citare All'illuminarvi Fai ok All'illuminarvi Certo per citare Poi e senza un final. Era un presunio, in un'escrita in un'escrita. Il Tarot si è scoperto la sua mente, ma una cosa che è stata fatta. Si potrebbe sentire Alan in un'escrita. Si potrebbe sentire, si potrebbe vedere le parole che era scrivendo sui occhi. Si potrebbe sentire il suo camino a lui. Scriviti al canale.